Cari amici dei gittanti gioiosi, vicini e lontani, vi salutiamo dal rifugio Vodala sotto il Timonio. Oggi è lunedì 26 gennaio, sono le 14, il tempo è splendido, quello che vedete è il rifugio Vodala. Non c'è tantissima gente al rifugio Vodala ma sono tutti giovani, allegri che mangiano, bevono. Noi abbiamo mangiato degli ottimi pizzoccheri e una torta squisita. E adesso andiamo con il panorama. Lassù il Timonio, vedete, il nevato, non si vede gente che sale e scende però qualcuno che comincia a salire c'è. Poi la sella a Vaccarizza con qualche ragazzo che scende, continuiamo a girare in senso orario, vi facciamo vedere il pulviscolo che c'è sopra la Val Brembana, contro sole. Quella è l'aria che noi respiriamo tutti i giorni, eccetto che quando veniamo ai 1700 metri del rifugio Vodala. Dopodiché i monti della parte della Val Seriana, il famoso monte Redondo, 1800 e rotti metri, con la parte a sud completamente pelata. Altri monti, quello là in fondo, vedete, con la cima piatta, è il Pizzo Arera, e poi, continuando a destra, quel cocuzzolo incredibile piramidale, ovviamente è il Pizzo di Coca. Continuiamo a girare, continuiamo a girare e ritorniamo al monte Timonio. Scendiamo, c'è il Vodala e a questo punto i vostri amici gittanti gioiosi vi salutano e vi augurano ogni bene. a legger, a legger, che noi siamo sempre qui. Ciao!